Buongiorno a tutti, sono Stefano Patroni, il presidente dell'Accademia Italiana di Conservativa per gli anni 2016 e 2017. Sono stato invitato presso il congresso della Società Italiana di Parodontologia a Torino alla struttura dell'ingotto. Complimenti veramente per la bellissima organizzazione a questa nostra consorella, la CDP. Come sempre un evento veramente importante per qualità di contenuti, di relazioni, per frequenza e qualità di partecipanti. Quindi complimenti al dottor Claudio Gatti, un amico fraterno, per la bellissima organizzazione e a tutto il suo consiglio direttivo. Vi aspetto numerosi il 5, 6, 7 maggio a Riva del Garda. Iscrivetevi per tempo per usufruire al meglio delle nostre accoglienze. Grazie dell'attenzione, vi aspetto e ancora complimenti alla CDP per il bellissimo evento organizzato e complimenti al suo presidente Claudio Gatti. Buona giornata a tutti voi. Ciao.